E la cosa fondamentale all'interno del Consiglio di Amministrazione pensiamo che debbano esserci anche gli uteli. In poche parole riproponiamo un modello con elezione del Presidente e anche del nomine del Direttore Generale che sia frutto del pluralismo e quindi allo slogan di Renzi, fuori partiti dalla RAI, ma lui ci mette solo il Governo, noi diciamo che dentro la RAI vogliamo la rappresentanza più ampia del pluralismo e della società e speriamo che su questo si possa arrivare ad un dialogo costruttivo.